in questo video vedremo come condividere un file per esempio con il proprio gruppo classe tutto quello che vedremo può essere applicato tanto a un docente che condivide con dei colleghi o con gli alunni quanto a un alunno che condivide anche in questo caso o con i compagni di classe o con la scuola o col singolo docente quella che vedete è una immagine presa da internet dove ci sono i loghi dei più importanti servizi di storage dati servizi di storage dati significa che sono dei siti internet che in previa registrazione ci consentono di avere uno spazio online di diversi gigabyte variabili a seconda dei servizi in ogni caso tutti hanno un profilo gratuito ed eventualmente altri più ampi a pagamento che ci consentono di inserire i nostri documenti online questo è quello che si chiama cloud non a caso il servizio di microsoft che è questo rappresentato proprio da delle nuvole in questa maniera quando abbiamo un file in cloud possiamo in qualche modo fare a meno della nostra pendrive sempre che si possa avere naturalmente un accesso quelli che vedete sono lo spazio di microsoft one drive queste nuvole il secondo è dropbox forse uno dei più noti il terzo è drive google drive e il quarto è box.com come vedete anche dai nomi sono molto simili noi a parte quello microsoft vedremo gli altri anche perché in fondo sono tutti pressoché identici cominciamo con drive questa è per esempio la parte di google classroom dove un ipotetico studente ha caricato una relazione di fotosintesi è la messa tramite classroom in condivisione con la classe naturalmente tutto questo funziona se la scuola ha le google apps for education se però questo non è possibile allora basta avere un semplice account gmail per condividere con gli altri il proprio file quindi questo è la schermata di google drive chiunque abbia un account gmail ha anche compreso un account di drive qui compariranno tutti i file messi a disposizione da drive possono essere raggiunti da noi in qualunque da qualunque macchina che sia connessa a internet ecco poniamo di voler condividere questo file che io ho già composto quindi che un ipotetico studente ha già composto basta fare con il tasto destro click fra le varie opzioni c'è l'anteprima, l'apertura, il link, varie cose tra cui condividi clicchiamo su condividi e una finestra di dialogo mi chiede con quali utenti io voglio condividere in questo caso basta che io inserisca l'indirizzo mail e poi posso specificare se questo utente può modificare il file può invece commentarlo soltanto ma senza toccarne il contenuto o semplicemente visualizzarlo questo è un modo di condividere vale a dire invitando un collega diventa molto scomodo se dobbiamo condividerlo con decine di utenti in questo caso forse è più pratico ottenere un link se io clicco qui infatti viene generato ecco qui un link che posso per esempio inserire in un blog posso inviare via mail e chiunque possegga questo link può lavorare sul file ecco qui infatti mi chiede chiunque abbia il link che cosa può fare può modificarlo commentarlo e visualizzarlo ripeto questo è molto comodo se dobbiamo condividerlo con molte persone una volta cliccata sulla condivisione l'utente nel caso dell'invito riceverà una mail nel caso invece del link saremo noi a provvedere a incollarlo in un blog in una mail o in un altro spazio di condivisione questo per quanto riguarda google drive questo che vediamo invece è box io in box è un servizio che richiede la registrazione e peraltro come anche google drive e come vedremo anche box possiede una app dedicata per eventuale uso da smartphone e tablet io ho creato qui una cartella che ho chiamato appunti condivisi la apro e questa cartella al momento è vuota in questo caso io vado a trascinare qui il file che voglio condividere il file è questo si chiama relazione di fotosintesi come vedete basta semplicemente trascinarlo in basso è presente una barra di caricamento che naturalmente impiega un tempo proporzionale alla velocità e alla dimensione del file in genere dopo qualche istante se parliamo di documenti in formato word o powerpoint non troppo pesanti il file compare ecco qui relazione fotosintesi.docx cioè un file word in questo caso è semplicissimo basta cliccare su condividi e anche qui vedremo che le opzioni sono molto simili a drive dropbox inizia con il dare il link come abbiamo visto un attimo fa ma possiamo anche fare l'inverso e inserire le mail di un destinatario questo è sempre nell'ipotesi che i destinatari siano pochi chiunque abbia il link può visualizzarlo però possiamo anche cambiare delle regole e possiamo anche stabilire appunto altri aspetti su dropbox tuttavia alcuni aspetti alcune caratteristiche più avanzate sono disponibili solo nella versione a pagamento qui dunque in questa cartella con questa procedura io ho messo in condivisione il solo singolo file io potrei anche fare un'altra opzione un'altra ipotesi cioè potrei addirittura condividere l'intera ecco io ho fatto un passo indietro questa è la mia cartella potrei condividere l'intera cartella piuttosto che il singolo file questo è molto comodo perché tramite questa procedura qualunque file io metterò dentro questa cartella senza specificarlo di volta in volta sarà sempre in condivisione la procedura è la stessa vado su condividi ecco invita persona a collaborare o invia il link in quel caso la procedura è la stessa solo che la faccio una volta soltanto tutto quello che inserirò nel tempo in questa mail sarà condiviso con tutti quelli che hanno ricevuto il link o l'invito questo valeva anche per drive in questo caso qui non vedevamo la cartella perché avevo il singolo file ma se io per esempio vado su nuova cartella per ora mettiamo una cartella semplicissima senza titolo eccola qui tasto destro condividi quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte alla fattispecie di prima quindi possiamo condividere il singolo file o la cartella seconda se questa condivisione è occasionale o è stabile questo invece è box.com un servizio molto simile a Dropbox solo che offre nella forma gratuita più gigabyte quindi lo consiglio questo sito in questo sito io ho creato di nuovo una cartella che ho sempre chiamato appunti condivisi la clicco e come vedete la cartella è vuota quindi prendo il file della relazione di fontosintesi lo trascino anche in questo caso è presente una barra in basso che mi indica il caricamento del file anche qui il tempo naturalmente necessario al caricamento dipende dai soliti due fattori che sono la velocità della mia connessione e la grandezza del file una volta caricato questo file nella parte destra compare l'opzione condividi ecco qui è attiva è subito attiva se io clicco questa scritta viene fuori la solita finestra di dialogo che mi chiede se voglio condividerlo tramite link oppure tramite mail e anche in questo caso c'è una finestra che può dare qualche opzione in più per esempio persone che dispongono il collegamento possono visualizzare questo file persone in questa cartella se io abbino alle singole cartelle degli utenti oppure posso rimuovere il collegamento quando non voglio più attuare la condivisione anche in questo caso possiamo creare una cartella condivisa e non un singolo file torno indietro abbiamo la cartella appunti condivisi vado su condividi stessa identica cosa e c'è un link naturalmente è un link diverso da quello del file questo link è univoco vale a dire porta soltanto qui e a quel punto io condivido l'intera cartella una delle domande che viene spesso rivolta è questa ma chiunque abbia in fondo questo link può raggiungere il file sì, tecnicamente è così solo che come vedete sono link particolarmente lunghi e complessi che è praticamente impossibile finire per caso in un collegamento di questo tipo quindi tornando alle nostre fattispecie che sono appunto quelle di Dropbox Drive, Box e anche OneDrive di Microsoft funziona nella stessa identica maniera è anche perfettamente integrato nei telefoni, smartphone, Lumia appunto a marchio Microsoft abbiamo visto come condividere un file questo è molto utile per esempio per la Flipped Classroom perché un docente in questa maniera può condividere senza caricare online aperti a tutti dei documenti che possono essere dei video che possono essere dei documenti scritti dei PowerPoint o altro questa metodologia è comoda anche per un'altra forma di didattica che è quella naturalmente dell'apprendimento cooperativo i ragazzi possono tramite la condivisione lavorare da remoto su un file senza essere fisicamente insieme questo può essere molto comodo per esempio anche però tra colleghi per l'elaborazione di un documento se infatti non usiamo la condivisione siamo costretti nell'elaborazione per esempio di un documento scritto a spedircelo continuamente via mail questo significa che dopo qualche revisione avremo tanti documenti pressoché identici nella nostra casella di posta e potranno occupare dello spazio in ogni caso essere piuttosto disordinati perché possono essere anche molto numerosi in questo caso il principio del cloud è inverso non è il documento che si sposta è il documento sta fermo nel cloud cioè nella nuvola di dati e l'utente che va dal documento e lo modifica ripeto i servizi più affidabili ma ce ne sono moltissimi sono Drive e lo consiglio a chiunque abbia un account Gmail perché è già integrato dentro Gmail oppure Dropbox che è anche un'ottima integrazione con gli smartphone specialmente quelli a marchio Apple o anche Box.com che offre un profilo gratuito di 10 giga piuttosto che di 2 giga che è quello di Dropbox che abbiamo visto un attimo fa qui è un'ottima integrazione Grazie a tutti.